Attimi di paura nella farmacia Pelagio in via Mestre a Cerignola dove poco prima dell'orario di chiusura lunedì scorso un giovane a volto scoperto e armato di un coltello con una lama di circa 30 centimetri fa irruzione all'interno e minacciando i presenti e nonostante il tentativo di reazione di un dipendente si appropia dei soldi contenuti nella cassa, circa 250 euro, e fugge via. I carabinieri, allertati dal titolare della farmacia, hanno immediatamente visionato le immagini delle telecamere presenti nel locale, riconoscendo il rapinatore in domenico a specchio a 22 anni incensurato. L'immediato riconoscimento è stato possibile poiché qualche giorno prima i militari erano intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cerignola perché proprio specchio aveva creato problemi con le persone in sala d'attesa. Avviate le ricerche il giovane è stato rintracciato poco dopo le 23 in via Borsellino in compagnia del padre di un parente. Condotto in caserma, specchio ha confessato ed è stato associato al carcere di Foggia. Recuperata anche la refurtiva.